salve ragazzi oggi voglio far vedere un nuovo sito per investire si chiama get my ads molto probabilmente in molti l'avete già sentito nominare vi permette di fare pubblicità ai vostri business online con l'acquisto di pacchetti comunque sì se io non sarò stato molto esplice esplicativo nello spiegarvelo vi lascerò il link in descrizione che è il mio link referia dove ci sarà un video che ve lo spiegherà in dettaglio dunque allora questi sono questa la dashboard e queste sono le campagne le campagne inattive quelle attive quelle finite io ho acquistato solo due pacchetti per adesso sto aspettando di maturare di maturare altri altri soldi per reinvestirli o forse li comprerò non lo so ora vediamo questa è la mia la mia linea di referenti ho 5 referenti diretti e 23 indiretti di cui in totale hanno comprato 10 pacchetti 10 pacchetti 10 pacchetti li chiamano questo il guadagno delle commissioni poi dunque questo è il guadagno prelevabile e questo è quello da reinvestire nel sistema appunto questi sono il livello in cui a cui sei arrivato questi sono i link referia che ti mandano solo al sito della registrazione per la registrazione in varie lingue questi sono per i premi che poi andremo a vedere vedete tutti i premi noi andiamo su queste sono le mie informazioni generali le informazioni generali 28 membri della squadra l'email la password e così via e tutte le altre informazioni poi i miei gettoni appunto questi sono io ho acquistato i due gettoni di cui ho guadagnato questi soldi questi sono altri questi sono i guadagni correnti quando è cominciato quando è cominciato il pacchetto e quando scaderà e quando scaderà e quando scaderà e quando scaderà e uno due questi sono appunto i guadagni questi guadagni correnti questi sono ancora da fare e questi sono i due pacchetti che ho comprato uno dal duemila visualizzazioni per il mio sito cioè per il sito per il link anche di altri business che ho sponsorizzato se non mi ricordo male dovrebbe essere Recyclics come lo sponsorizzato anche con 200 click Recyclics e credo di aver avuto uno o due referenti iscritti poi ah riguardo a Recyclics poi farò un link un altro video per per eventuali per spiegarvi come poter accedere al sito visto che adesso è oscurato in Italia per il momento vi farò vedere come accedervi e anche come riuscire a prelevare se volete prelevare ma comunque il sito è abbastanza e ancora pagante ok e dunque queste appunto sono le campagne inattive attive e finite e queste sono appunto il riepilogo di tutta la campagna e questo è il traffico che ha generato che ho già finito poi la mia squadra una questi sono tutte le persone sottoline tutte le varie persone sottoline e non ve le farò vedere tutte quanto hanno investito quanto hanno investito e quanto hanno investito quanto hanno investito poi cassiere 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 in pratica è quando appunto si può già prelevare dal sistema dei nostri guadagni io ora penso che per un po' non preleverò niente ma reinvestirò tutto nel sistema per avere un contante molto più elevato quando andrò a ritirare questo appunto è quanto posso ritirare adesso quanto posso ritirare adesso e scusate e quanto e quanto e quanto si quanto posso ritirare adesso e il metodo di pagamento conto bancario e il conto bancario e quest'altro to pay for you e via che io utilizzo come potete vedere ho già fatto un prelevamento quando sono arrivato oltre 20 euro oltre 20 dollari scusate come dice qua poi questo è la pagina dell'acquisto dei pacchetti qui questo io ne ho acquistati due questo non so come mai me lo me lo conta perché avevo fatto una prova ma va bene questi sono i miei due pacchetti che ho comprato qui e data di pagamento vi faccio vedere i metodi come comprare allora o reinvestendo i vostri guadagni o tramite soforot che non so penso che sarà sempre un altro portafoglio tramite carta di credito questi sono i prelieri i per acquistare tramite payer ad cash questo pay per to pay for for you tramite bitcoin e conto bancario e poi eccolo qui my timeline che è tutto quello che ho fatto questi marketing appunto sono i vari modi come vi ho fatto vedere prima qui qui vi darà il modo di andare esclusivamente sul sito e registrarvi qui sotto invece ci sarà il vostro link le ferie che questo è invece il mio il vostro link le ferie e appunto vi permetterà di registrarvi di registrarvi e guardare naturalmente il video di spiegazione più dettagliata e qui oltretutto ci sono anche i banner se volete metterli sui vostri siti per attirare più persone nel vostro nel vostro gruppo naturalmente sempre il solito consiglio non investite più di quanto siete disposti a perdere anche se questo questo sito è cioè guardando guardando in giro è altamente affidabile e quindi ci si può investire tranquillamente però è sempre buona norma buona norma investire quanto si è disposti a perdere va bene e allora io vi rimando al prossimo video che quasi sicuramente sarà su come come accedere al sito di Recycling e richiedere anche un pagamento anche se eh no richiedere un pagamento perchè a breve dovrò richiedermi un altro quindi lo farò sul momento eh va bene ok al prossimo video ciao